Domenica 7 maggio, in diretta dagli studi TV di Italia Mia, canale 274 del Digitale Terrestre e 903 di Sky, andrà in onda la sesta puntata della Reality & Fashion Show for Designer, programma ideato da Emanuele Siciniano Management. Tre gli stilisti in gara, Gianni Cirillo, Eugenia Zorcolseva e Fabrizio Turboli, pronti al giudizio della nostra giuria tecnica, composta dalla stilista vincitrice della scorsa edizione Teresa Maiulo, dai fashion blogger Luca e Mario Grossi e dal presidente di giuria Michele Gaudiomonte, che durante la serata ci regalerà un momento moda con le sue splendide creazioni. Tanti gli ospiti presenti per questa sesta puntata, tra cui Luigi Auletta di Impero Couture, la cantautrice Daria, l'attore Vincenzo Soriano, l'organizzatrice di eventi Vera Cirillo e il regista cinematografico Claudio Lucarelli, sul palco del Reality & Fashion Show sfileranno inoltre le creazioni di stiliste già affermate, come Giovanna Ercolano, Maria Berardi di Matrimonio Luminoso e la stilista di costumi Daniele Enrico, col suo brand Dada, ospiti Canori, Marika Cecere, Alexis e il Galante, make-up artist Ima Pone e il suo staff, fotografo ufficiale Gianluca Belaef, coreografie a cura di Maria Carmen Vassallo, partnership del programma L'Accademia di Moda e Design di Maria Mauro, presentano il Regno di Vita e Alessandra Dorsi. Le repliche del programma andranno in onda su Cilento Channel e canale 636 del Digitale Terrestre.